Il 10 febbraio è il giorno del ricordo, istituito con larghissima maggioranza dal Parlamento nel 2004. Citando le parole del Presidente Mattarella per fare memoria di una pagina tragica della nostra storia recente, per molti anni ignorata, rimossa o addirittura negata. Le terribili sofferenze che gli italiani d'Istria, Dalmazia e Venezia Giulia furono costretti a subire sotto l'occupazione dei comunisti jugoslavi. Si trattò di una sciagura nazionale alla quale i contemporanei forse non attribuirono il dovuto rilievo. Questa penosa circostanza pesò ancora più sulle spalle degli esuli, i cui testimoni ed eredi abbiamo anche a Mondorì. Scorrendo l'anagrafe cittadina è facile trovare Morregaresi nati a Pola, Villa Slavina, Mattuglie, Capodistria, Lisnian, Trieste, negli anni 20 e 40. Sono decine di persone che tramandano la memoria di quella tragedia nazionale. Italiani che personalmente, in famiglia, tra amici e conoscenti, hanno vissuto il dramma di lasciare alla propria terra i propri affetti e doversi ricostruire una vita lontana. Mondovì ancora una volta si dimostrò nei loro confronti, comunità votata all'accoglienza e per questo ancora oggi, 10 febbraio 2021, tributiamo loro un doveroso e affettuoso pensiero. L'esodo degli italiani, i crimini delle foibe non stingano mai nella nostra memoria. Perché, e mutuo ancora una volta le parole del Capo dello Stato, tutte le vittime dell'odio sono uguali e meritano uguale rispetto.